Diciamo che, come hai detto bene te, leggendo le statistiche sono anche abbastanza contento perché oggi in una gara così importante ho ritrovato delle sensazioni che era da un po' che non provavo in pedana. Secondo me ho espresso una gran bella scherma, però brucia tanto, brucia tanto a non essere arrivato a medaglia per una sola stoccata. Una situazione un po' rogambolesca dove sono riuscito a trovare la chiave del match, che sono partito un po' male. Fa male, fa male, però ci portiamo quel che di buono è stato fatto oggi, soprattutto perché fra qualche giorno ci sarà un grande appuntamento a squadra e dobbiamo dare il meglio. Il rammarico c'è, oggi brucia, ma da stasera, da domani mattina il focus deve essere solo sulla guerra squadra perché non si possono avere la testa, deve essere libera, questo giorno non deve proprio starci più nella nostra testa da domani. Da domani si riparte, dobbiamo essere cattivi, lucidi, fare la nostra scherma e portare a casa un bel risultato. Nella mia testa quest'anno è stato un anno davvero di crescita perché l'anno scorso le cose sono iniziate ad andare per il verso giusto, il lavoro che faccio quotidianamente con il mio maestro e il ritiro con lo staff sta portando i suoi frutti.